Signor Ministro, i tamponi per chi arriva nei pronto soccorso? Io credo che questo dipenda molto ovviamente dall'organizzazione dei pronto soccorsi, dalla sintomatologia che il paziente presenta. Però in questo momento forse lasciarli per chi arriva nel pronto soccorso può essere una tutela. Però su questo ci stiamo lavorando. Grazie.